Gentili telespettatori, di Time Out, una nuova puntata con un personaggio di cui sentiremmo parlare sicuramente, se la legislatura va avanti, va avanti Franco Zaffini, senatore Fratelli d'Italia, va avanti sta legislatura? Penso di sì, auspico decisamente di sì. Assolutamente, non ha rimesso in piedi la sua campagna elettorale, quella non finisce mai. Non finisce mai, in ogni momento può intervenire? Sempre, senza paura. Allora, ma vi rendete conto che la gente è un po' sconvolta da tutte queste chiacchiere, questi modi di rapportarsi, da questi no, da questi sì, da questi corteggiamenti naturali? Sì, ce ne rendiamo talmente conto che da praticamente qualche giorno dopo le elezioni andiamo denunciando la circostanza che ancora tarda ad arrivare l'incarico al centro-destra che ha vinto le elezioni. Spero che la conferma di queste due regioni, Molise e Friuli, convinca chi deve decidere a decidersi a dare appunto l'incarico al centro-destra. Il vostro pezzo di centro-destra non è andato male né in Molise né in Friuli, no? Dimostrazione che ancora siete vivi. Direi che è andata decisamente bene. Sì, e non siete ancora completamente schiacciati da questa forza travolgente che è la Lega di Salvini? Ma io non vedo pericolo di schiacciamento. Il centro-destra è una coalizione di diversi, l'abbiamo detto mille volte, diverse sensibilità, del resto altrimenti non sarebbe una coalizione e sarebbe un partito unico, insomma siamo molto simili ma siamo diversi. In questo ritaglio di diversità è ovvio che Fratelli Italia ha lo spazio nella geografia politica del centro-destra ha lo spazio più angusto ed è per questo motivo che il risultato è quello che è. Diciamo che poi ultimamente col derby tra Forza Italia e Lega si era ristretto ulteriormente noi facevamo i guardialini. I guardialini, ok. Però i guardialini sono importanti, alzano la bandiera e fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Avete alzato spesso la bandiera in queste trattature? A me sembra che molto spesso Giorgia Meloni interviene e interviene a proposito e riesce a fare l'elemento femminile, quindi di buonsenso, di pragmaticità, di tenerezza in qualche caso per recuperare una coesione che nel centro-destra, insomma sembra facile ma ci sono molti motivi perché questa coesione non sia facile. Assolutamente. Ma non vi sentite un po' un partito nostalgia anche voi? Tassativamente no. O antichi no. Tassativamente no. Rivolte verso il passato, una destra un po' antica. No, vabbè, assolutamente. Antichetta. Antichetta. Direi proprio decisamente di no. Sto pensando a perché mi fai questa domanda e non trovo... Nessuna spiegazione. Non trovo niente. Ok, perfetto. Dato che ci sono destre tecnocratiche in giro per il mondo, destre molto avanzate, destre aperte ad altre zone della società, la vostra è rimasta un pochino attaccata molto alla storia d'Italia, insomma, per essere... Noi siamo patrioti, l'abbiamo mille volte detto, dopodiché questo termine è un termine che va declinato nella modernità, cioè nell'oggi. declinare il patriottismo dell'oggi evidentemente non è quello del risorgimento di Pietro Micca o... Declinare il patriottismo di oggi è, ad esempio, giorni fa in Europa discutendo dell'OCM del vino, buona parte dell'Europa intendeva escludere la partita appunto del vino come prodotto dalle OCM, quindi dai settori aiutati, tra virgolette. L'impegno nostro è stato subito di denunciare questa circostanza, in questo momento la discussione è in atto, però insomma, noi intendiamo essere patrioti nel difendere l'interesse nazionale. In un momento dove la globalizzazione, l'Europa, internet, Facebook, tante cose mettono a rischio l'interesse semplice, cioè quello della gente normale, quello della gente che deve quadrare il bilancio dei fine messi. Perfetto, allora, abbiamo parlato delle chiacchie di questa lunghissima diatriba e forse continuerà ancora per fare questo governo che non arriva, qual è la sua idea? Che idea si è fatta? Come finisce, insomma? Io credo che bisogna rimettere anche qui le cose per il verso, giusto, normale, c'è un percorso costituzionalmente indicato, il Presidente della Repubblica deve muoversi dentro questi paletti, diciamo che fino a questo momento l'ha fatto in modo abbastanza creativo, rispettiamo naturalmente tutti i percorsi. È una parziale critica, nel senso, ad esempio, prevedere che ci possa essere una maggioranza tra chi ha perso, cioè arrivato terzo, e chi ha perso perché è arrivato secondo, a mio avviso è un percorso senza esito perché anche quando PD e 5 Stelle si fossero messi d'accordo è evidentemente l'incarico a questi signori non gli si poteva dare perché le elezioni l'hanno perse, non l'hanno vinte. L'ha vinte invece il centrodestra e quindi l'incarico deve essere adesso rapidamente dato a un rappresentante del centrodestra che va, scioglie una minima riserva, va dal Presidente della Repubblica con la lista dei ministri, si presenta alle Camere con un programma anche stringato, diciamo realistico e riceve la fiducia delle Camere, se non riceve la fiducia delle Camere si programma di andare alle elezioni, questo è il percorso che prevede la Costituzione. Bellissimo, senatore Zaffini. Non è Di Maio che dice quando si vota. Ok, però senatore Zaffini, qui ci abbiamo, siamo tanta gente che ascolta, sente ripetere, allora Di Maio detesta Salvini, Salvini vuole Di Maio però non lo vuole in un certo modo, quello non vuole Berlusconi, l'altro c'ha l'ego smisurato, ma è possibile che esista un dibattito politico di questo livello in Italia? Se la domanda la fai a Franco Zaffini, ti dico che ma la tempora currunt, nel senso la politica è in un cono d'ombra assolutamente evidente anche per colpa vostra. No, mai, 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 l'informazione racconta quello che fa, se la politica la raccontiamo schifosa, prima o poi schifosa diventa, no? Ma è quello che è Zaffini? No, non è quello che è, non è affatto quello che è, però questo divaghiamo, se vuoi ne parliamo, ma andiamo fuori tempo. Va bene. Io credo che se invece lo chiedi al senatore Zaffini, io ti dico che sono prassi ripetute molto spesso anche nel tempo, anche nel recente passato. Però si racconta di Germania. Siamo andati avanti cinque anni con un governo di gente non votata da nessuno, quindi non ci possiamo meravigliare che adesso perdiamo qualche mese per trovare una quadra. E anche questa buona obiezione, un punto per Zaffini lo segniamo, un punto per il senatore Zaffini lo segniamo, un punto, però come se ne esce, com'è possibile uscire così? In Germania, perdone, in Germania, voglio dire, se è discusso per mesi, ma su programmi precisi, affinando proposte qui, diciamo tu no, tu no, tu sì, io no, però quello sì, e voglio dire, da che parte si va? Via. Cioè come fa la gente che ascolta lei, ascolta tutti gli altri politicanti di questo mondo, voglio dire, di questo mondo italiano, a pensare che se Salvini dice facciamo il governo con il Movimento 5 Stelle e Di Maio dice ma neanche mai con Forza Italia, da che parte si va? Non si va da nessuna parte. Sì, però non è, allora innanzitutto non è tutto uguale, no? Non facciamo la solida tutto un erbo in fascio perché altrimenti non ci siamo. Mi piace il ritmo di questa trasmissione che è veramente arrembante e mi iscrivo a essere ospite più volte, più volte lo facciamo. Affezionato. Assolutamente sì. Io credo che molto semplicemente, ho già detto, si deve seguire il percorso che prevede la Costituzione, deve essere dato l'incarico a un rappresentante del centrodestra, dopodiché si decide, due sono le strade, o si va a votare perché questo governo verrebbe, nel caso in cui venisse sfiduciato, oppure questo governo va avanti per il programma col quale si è presentato alle camere per ricevere la fiducia. Non c'è tanta... Saffini, ma se Di Maio dice di no a Salvini, continua a dire di no, e Salvini dice col PD mai, solo con Di Maio, da che parte andiamo? Questo discorso è un discorso politico che sta nei salotti. Ah, va bene. I numeri si verificano in Parlamento, non vince chi prende più voti, vince chi prende più deputati, i quali deputati servono per votare i provvedimenti del governo. Quindi non vince chi arriva primo, non è una corsa campestre, è una elezione politica. L'Italia è una repubblica presidenziale, parlamentare, che deve... scusate, ho sbagliato, non presidenziale, parlamentare. La volete voi presidenziale, ma vedremo... La vorremmo noi presidenziale, è un lapsus proietiano. Vedremo la prossima. È una repubblica parlamentare per cui i numeri si trovano in Parlamento. il centrodestra ha il 43% dei deputati, serve un altro 7% che si trova in Parlamento. Maggioranza dei presenti e come saprai sicuramente... Qualcuno è disposto a uscire ogni tanto. Qualcuno ha bisogno, deve mangiare una pizzetta oppure prendersi un caffè. Minzione, sì. Oppure eventualmente, va bene, eventualmente, però non è certo. Ricordiamo che altri governi sono andati avanti per anni. È un paese che va lontano quello che sceglie un governo così. Ma se la legge elettorale è stata fatta dal PD, è stata fatta appunto perché è stata fatta dal PD schifosa, non è colpa né di Fratelli Italia, né di Salvini, né di Berlusconi, né di Giorgio Meloni. E neanche di Zaffini, va bene. Noi ci confrontiamo con una legge elettorale fatta apposta per non governare, in modo da rendere facile l'accordo Forza Italia-PD. Come sempre, il diavolo fa le casserole, ma non fa i coperchi. Il coperchio è ammancato. L'hanno fatto gli italiani, il coperchio. Allora, io mi allontano di nuovo, ma torno vicino. Del PD, abbiamo detto adesso del PD. Adesso Zaffini non deve occuparsi del PD, ma una cosa la può dire. 116 renziani che votano, che firmano, non votano, firmano un documento di queste ore. Come lo vede il futuro del PD? PDR. PDR. Un altro partito? Si spaccano? Beh, mi sembra che già, sostanzialmente, già c'è. Ascoltando Fassina, scusate, Fassino ieri sera a Porta a Porta e ascoltando Renzi due giorni prima da, come è stato talmente antipatico che non ricordo il nome, va bene, va bene, va bene, niente concorrenza. Mi sembra evidente che sono due partiti totalmente diversi. Sono già due partiti diversi. E in Umbria come si verificheranno le cose se andiamo a una spaccatura? Lei che dice? Ma diciamo che frazioniamo l'atomo. Addirittura! No, non sono così ridotti, via, e hanno un potere economico ancora notevolissimo in Umbria, eh? Non vedo tutta questa forza, perdonami direttore, ma francamente non vedo tutta questa forza. Non ho timore di sottovalutazione, ma insomma, ripeto, non credo che da qui a un anno e mezzo quando si potrà aprire i regionali ci sia un esito dubbio. Va bene, questo lo vediamo. Credo anzi che sia alquanto scontato. Ricordatevi che si torna anche indietro quando la politica e i voti sono molto volatili. No, ti dirò perché. Non si torna indietro perché ci sono in mezzo appuntamenti che sono già segnati. Adesso Terni e Spoleto, oltre ad altri comuni minori, fra un anno Perugia e tutti i comuni Poligno e tutti i comuni principali e dopo le regionali. E questo sarà un percorso che vedrà il centrodestra vincere largamente e vedrà il PD, beh, guardate adesso quello che succede a Terni, guardate quello che succede a Spoleto che ancora non riescono a trovare un candidato e per trovarlo devono prendere in prestito dall'aggiunta precedente. Che era un po' di destra, che insomma, un pochino di destra. Diciamo, era un'aggiunta sicuramente non del PD, quindi prendere un assessore di un'aggiunta non del PD, dà il segnale, insomma, a Terni il candidato due giorni prima gli dice ciao, io gli occhi a voi non li scolo. Non li scolo, va bene. La vedo messa male. Perfetto. Per quanto noi possiamo essere impreparati. Poi litigiosi anche voi mica poco, eh. Vabbè, ma noi discutiamo animatamente. Ecco, ma Umbertide, Corciano, state litigando dappertutto, anche voi no? No, no, in realtà, in realtà devo dire qua, veramente lo dico senza retorica e senza enfasi, non stiamo litigando, stiamo giustamente confrontandoci anche in modo piuttosto schietto, insomma. Beh, la Lega è un po' prepotentella? Ma la Lega in politica, io dico sempre, quando qualcuno, no, mi fa il discorso che dici tu, io dico sempre, in politica, eh, contano i voti, sembra banale, ma bisogna ricordarlo sempre a tutti. La Lega ha un consenso intorno al 20%, mi pare del tutto evidente che batte i tempi. Da 1 a 10, Franco Zaffini quanto ha contato per la scelta di De Agustinis a Spoleto? 10. Aspita, tutto suo il candidato? Beh, l'ho contattato io. Bene. L'ho contattato io, l'idea è venuta in corso di un amichevole colloquio con un altro personaggio politico di cui non svelo il nome naturalmente, dopodiché mi sono messo subito in contatto con il dottor Umberto De Agustinis, all'inizio un po' sorpreso, giustamente un po' preoccupato, diciamo però molto motivato da un sentimento di grande amore nei confronti della città di Spoleto. Se perde De Agustinis è colpa di Zaffini, questo l'abbiamo detto, certificato davanti a tutti i telespettatori di Inter. De Agustinis non perde, se vince in merito del centrodestra, se perde è colpa sua. E non di Zaffini? No, va bene. Se perde è colpa sua. Perfetto, non mi ha detto come si divide il PD in Umbria, secondo lei. Frazionando l'atomo, come si divide. Chi resta Correnzi? Ma secondo me restano quasi tutti Correnzi, compresa Marini. Ah, addirittura, ok, quindi Orfini, certo. Ma i numeri sono quelli che sono, questo è detta legge, ormai i gruppi parlamentari sono blindati, si è fatta una legge elettorale per avere il controllo del partito, il partito lui lo vede come un appesantimento, un fardello, una sorta di anello del potere di cui volentieri si libererebbe per volare leggero in altri vidi. Però lei ne sta parlando male, ma prima mi ha detto che vuole fare con le sue pause, con le uscite dei suoi deputati di governo, su questo mi ha detto, di Renzi dico, le uscite dei deputati di Renzi. Ma noi che ci frega chi esce, è importante che votiamo il governo, non è, mentre un accordo politico fuori dal Parlamento è un accordo tra, diciamo fra virgolette, uguali, nel senso no, i tavoli che hanno fatto fino ad oggi, no, ci stai, non ci stai, che ti serve il contratto, scriviamo i punti, tu vai in Parlamento con una lista dei ministri tuoi, con un programma tuo, con la maggioranza tua, chi ti vota, ben venga, votano loro il governo di centrodestra, non è il centrodestra che si allea con qualcun altro. Perfetto, e quindi va bene Renzi, va bene chiunque, perfetto, entro giugno ce la fate a fare un governo così? Chissà, va bene, non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. Ho un'alta considerazione di me stesso, ma ti assicuro che non dipende da me. Ok, adesso però io mi riavvicino, torno vicino, adesso parliamo male di Franco Zaffini, quel gioco del dicono di lei che noi riferiamo, è un gioco di un paio di domande, non dura molto, voglio dire un paio di domande, chi dice che Zaffini è un riciclato, ha ragione? Ma riciclato di che? Di una vecchia storia politica, no? Io sono stato iscritto a 16 anni al Movimento Sociale Italiano, da allora ho sempre fatto la testa di quel partito che ha subito un'evoluzione nota a tutti, Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, Futuro e Libertà, perché questo è stato, Fratelli d'Italia, il simbolo della fiamma è stato sempre dove sono stato io, viceversa, io sono stato sempre dove è stato il simbolo della fiamma, quindi riciclato francamente… Quando dicevo antichetti, dicevo questo, cioè è troppo legato a una storia patria secondo molti non eccellente. uno non gioca… Eh? No? Vabbè. Perché una storia patria non è eccellente? Eh, vabbè. Per me è eccellente, per me è eccellente ed esemplare. La destra italiana si è caratterizzata per un lungo periodo di notte, più o meno volontaria, e poi è stata chiamata al governo del paese e ci si è trovata nel bene e nel male, perché ha fatto bene e ha fatto male come ogni altra cosa umana, a pieno titolo. Quindi oggi è a pieno titolo dentro una coalizione di centro-destra, dove rappresenta la destra. Una seconda feroce critica che le viene fatta, adesso questa più personale ancora. Oppositore troppo blando quando… Sì, troppo blando. Vorrei quasi non rispondere a questa domanda. Bisogna rispondere, bisogna, bisogna. Perché… La gente chiede, le persone rispondono. Ho smesso dopo tre mandati di fare il consigliere regionale perché mi davano ragione su tutto. Ahia. E quindi mi ero preoccupato. Non è bello questo, non è bello. Ma perché lei si avvicinava troppo alla maggioranza? No, perché quello che avevo detto era talmente vero, quello che avevo detto era talmente vero che dopo un po' di tempo ci sono arrivati anche loro che sono un po' di duri di comprendonio. Quindi a un certo punto mancavano gli argomenti nel senso che ti davano ragione prima ancora che cominciassi a criticare. Detto questo noi siamo stati veramente puntuali, precisi, gli atti in consiglio regionale sono stati tantissimi, numerosissimi. Il rispetto nei miei confronti è totale da parte di tutti gli attori della politica. Questo credo che tu l'avrai riscontrato. Io riferisco in questo caso… La situazione è comoda, a me non mi riguarda. In questo gioco io riferisco soltanto. Però ci è voluto così tanto per scongelare il grande ghiacciaio del PC, PDS, DS, eccetera, eccetera, in questa regione. Diciamo che in questa regione ha seguito un po' l'andamento nazionale. È arrivata da fuori, appunto. Non siete stati capaci voi a cambiare… Diciamo che Renzi è stato più bravo di noi. Ok, ecco. Quindi interno, dice. È stato un problema interno, ha fatto esplodere le contraddizioni. È stato più bravo di noi. Detto questo, probabilmente a livello locale, prima o poi, insomma, ricordiamo che Ricci non ha vinto, però non ha mangiato dei voti e forse aveva anche vinto. Forse aveva anche vinto, ma adesso vuol tornare di là, no? Dicono. Ricci farà quello che vuole. Ricci fa quello che vuole. Chiedo a lui. Avevate sbagliato candidato? No. No, perché? No. Ripeto, un momento in gioco. Era quello giusto. Allora, in quel momento… All'epoca era quello giusto. Era quello giusto. In quel momento era quello giusto. Perché prima ha detto che non c'è ancora e non resta forte il potere, voglio dire, nei gangli della società civile e dell'economia ombra del PCP di SDS? No, non c'è più niente. Io vedo solo grandissimi problemi, ma non lo vedo solo io. Lo vedi anche tu, lo vedono anche loro. Ma i molini popolari a trazione leghista, lei li vede? Perché no? Sì. Fra qualche giorno vedremo perché no. Intanto, intanto ad Umbertide, come hai visto, nel confronto tra i collegi, il mio risultato e quello di Giulietti, non è quello del vecchio PC. Inquietante questo. Non è quello del vecchio PC. Giulietti vinse da sindaco in una tornata, non ricordo quale, con oltre il 70%. Quindi cade Stalingrado, Umbertide, secondo la valutazione di Zaffini e secondo gli ultimi numeri? Che dice? Noi la giochiamo per vincerla e credo che potrebbe essere una cosa simbolica molto importante. Di sicuro la sinistra, Umbertide, si sta dividendo in mille rivoli e quindi ci sta lavorando bene anche la sinistra. Anche lì. E non ho capito però con quale candidato andate? Al momento questa è una domanda alla quale io non so rispondere. Non sarà un candidato di Fratelli d'Italia? Oh, bene. Sindaco. E sarà della Lega? Ho detto, questo non lo so rispondere. Va bene. Noi ad Umbertide aspettiamo che ci dicano gli alleati che cosa fare. State litigando vuol dire no? No, assolutamente. State conversando e discutendo. Ragionando su qual è la scelta migliore, ma tanto è questione dei giorni. Secondo la sua esperienza, ha fatto campagna elettorale Umbertide, ci vuole una moderata, tanto per non far sapere il nome, ma insomma una moderata, ha più possibilità di successo o un verde leghista tosto, antimoschea magari? Beh, credo che in questo caso entrambi i candidati di cui tu parli sono decisamente antimoschea, quindi in questo si equivalgono. Ma diciamo che, non lo so, è vero, non lo so. Perfetto. Sinceramente non lo so. Umbertide è un territorio nel quale io ascolto molto perché l'ho vissuto poco. Perché l'ho vissuto poco. C'è tutta una storia, insomma, sul motivo per cui l'ho vissuto poco. Umbertide era la zona dell'Alto Tevere che di solito era lasciata all'ignare. Persa. Persa di solito per il centro-destra e comunque di solito persa. Però ascolto molto e quindi rapidamente impara. Impara rapidamente, il senatore Zaffini impara rapidamente. Chiudiamo lo sguardo sul passato però con una cosa. Promettete. Però quel dicono di te non mi è piaciuto. Il popolo parla e voi dovete rispondere. Il popolo parla e voi dovete rispondere. Una cosa, su una cosa dobbiamo metterci d'accordo. Tutti i 25 aprile arriva un sindaco di destra, centro-destra, che se ne inventa una, l'ultima, Todi e Ruggiano. Vogliamo piantarla con queste storie? Che dice? Una volta per tutte? Senza guardare al passato, Lampi è qui e là e sotto e sotto. Ho capito, ma sono loro che guardano al passato, mica noi. Ok, vabbè. Ruggiano ha semplicemente detto che è una ricorrenza che il Comune intende celebrare. Non si vede perché... C'è sempre un motivo per fare polemica. Non si vede perché bisogna delegarla a Lampi, che ormai dei partigiani non c'è più neanche i figli. Ok, però il 25 aprile perché deve essere un motivo di polemica? Ma non è infatti, è loro che hanno fatto la polemica. Ruggiano ha detto che la celebra, giustamente, l'amministrazione comunale aperta a tutti. Loro hanno voluto fare la loro manifestazione distinta da quella del Comune un'ora prima sullo stesso luogo del Comune. Mi sembra una stupidaggine. L'avessimo fatto a interposti ruoli sarebbe ruolo del mondo. Di solito la politica serve per evitare di ingrandire piccole cose. Di solito il 25 aprile arriva sempre qualcuno che... Ho capito, ma prima o poi qualche prassi bisogna anche rompere. Ripeto, Lampi, di partigiani ormai non c'è più nessuno. Quindi è un'associazione di benpensanti. Non ce lo faccio. Come tante altre ne esistono. Missione fallita, torno vicino al mio sgabello. Missione fallita, torno vicino al mio sgabello per dire due o tre cose dell'Umbria. Per l'ultimo periodo che ci separa dalla conclusione di questo dibattito effervescente. Che non mi è piaciuto il dicono di te. Il popolo bisogna rispettarlo. Il popolo è sempre filtrato. No, no. Neanche quello del Grillo. Ormai è più... Il popolo va rispettato. Allora, è possibile che quest'Umbria vada avanti in questa maniera? Cioè con iniziative scoordinate. Sto pensando alle strade che ne esce una ogni tanto e poi alle 45. Continua ad essere una buca dietro l'altra. I treni, boh, uno vuole andare a chiusi. Abbiamo il freccetta rossa che dice che è un grande successo. parta alle 5.13. L'aeroporto, boh, abbiamo azzeccato Francoforte chissà per quanto. Manca, è possibile che possa mancare ancora una politica con un minimo di senso? Innanzitutto partiamo dall'origine. In Umbria manca una politica. In Umbria manca una politica. Manca una testa che pensa all'Umbria di prospettiva, di visione. E' una politica che pensa ad amministrare un condominio allargato. Quindi prende i problemi, cerca di risolverli, all'80% non ci riesce e i problemi si tramandano. La visione è completamente assente dalla maggioranza che governa l'Umbria, ma non da questa, anche da quella precedente. Sul problema, i tre problemi che hai citato tu, e cioè le infrastrutture, sulle 45 io ho fatto una lettera al Presidente Anas e chiedendo che fine hanno fatto 1 milione e 600 mila euro, appaltati solo 100 milioni. Ho fatto questa citazione apposta. I 100 milioni appaltati sono stati appaltati per due terzi con procedure e tecnologie obsolete, ad esempio non c'è l'asfalto drenante, non c'è il recupero del fresato, va bene? Cioè parliamo di lavori appaltati con tecniche vecchie di 30 anni. Ecco, allora ho scritto al Presidente Anas, aspetto risposta. Ho proposto al Presidente Anas, siccome di questo miliardo e 600 milioni una larga parte è da investire in Umbria, come è accaduto in altre parti d'Italia, e siccome il compartimento dell'Umbria Anas praticamente non c'è più perché è Firenze, è un sub-compartimento, ho proposto di predisporre in Umbria una cabina di regia per gestire solo l'ammodernamento delle 45. I prossimi dieci anni, ottimisticamente, una cabina di regia specifica che lavora, c'è una centrale operativa H24 peraltro, a Ospedalicchio, a Balanzano, chiedo scusa, quindi abbiamo l'infrastruttura necessaria, gli uffici pronti, serve un paio di teste che pensano a come lavorare queste enormi risorse disponibili. Ce lo deve dire l'Anas, il freccetta rossa come lo chiami tu, ma scusa, ma perdonami, ma per andare a lavorare a Milano a che ora devi partire? Al 10? Arrivi a mezzogiorno? All'una? Per lavorare a Milano, tu devi essere a Milano alle 9, 9 e mezzo. Senatore, se le 5.13 fossero un orario, Francoforte e Milano avrebbero risolto, non avrebbero tutti i treni alle 6 e mezzo, 7, no voglio dire? Ho capito, ma ti smentisce il numero di prenotazioni? Oh no, assolutamente, quello va bene, ma vuol dire che l'Umbria si accontenta. Non è che si accontenta, l'Umbria non ce l'ha, il freccia rossa, quindi fino a Terontola deve essere un freccetta, dopo di che da lì in poi parte e va, però il materiale è quello, sali a Perugia e scendi a Milano, che era quello che serviva, poi deve partire presto, però non è l'elicottero, è un treno, pur veloce, e quindi due ore e mezza ce le mette per arrivare a Milano, due ore e mezza, tre, ce le mette per andare a Milano, quindi parti alle 5 e mezzo, alle 8 e mezzo, 9, stai a Milano, c'hai tutta la giornata lavorativa, la sera ritrovi lo stesso treno che ti riporta a Perugia, hai lavorato, del resto non è un treno per i turisti quello, è ovvio no? Ok, l'aeroporto, l'aeroporto, la vicenda del Lab, su Francoforte può essere una mossa intelligente, serve un gestore professionale, sembra che finalmente, ma questo io torno a quello che mi hai detto prima sull'opposizione, io questo lo dico non da oggi, lo dico da anni, no, da quando c'era l'amico Pagotti, serve un gestore professionale al quale gli dà gli obiettivi, l'aeroporto è stato sempre un cimitero d'elefanti, non può essere un cimitero, la SASE non può essere un cimitero d'elefanti, deve essere un gestore professionale, gli dà gli obiettivi, se li realizza bene, se no va a casa e ne prendi un altro, fino a che al terzo o al quarto chiudi l'aeroporto, perché significa che l'opera non regge, non si regge, i costi non pareggiano, i ricavi non pareggiano i costi. Perfetto, questa amministrazione regionale è migliore o peggiore di quelle che ha vissuto lei? Peggiore in assoluto, ma non solo l'amministrazione, anche i rappresentanti in consiglio regionale, questo mi dispiace anche dirlo, ma da quando io sono entrato nel 2000 ad oggi l'istituzione è irriconoscibile. Un voto alla Lorenzetti e uno alla Marini, non cerchi di scantonare. Cinque e mezzo a Lorenzetti, quattro e mezzo alla Marini. E che dovevano fare e che dovrà fare il Presidente o la Presidente di centrodestra immediatamente in Umbria? Beh, diciamo parlare con me, la prima cosa che dovrà fare. Ok, la facciamo parlare con lei. Ovviamente è scherzo, dovrà elaborare un programma preciso, ma fatto di soluzioni ai problemi atavici di questa regione, l'infrastrutturazione è uno dei tanti. La denatalità, l'Umbria è la regione più vecchia d'Italia. Altro punto per Giaffini, l'ha detto prima delle elezioni, e poi quadrare i numeri della sanità, perché le vacche grasse sono finite e noi non ci possiamo più permettere duplicazioni di strutture e territori trascurati e altri iper curati. Il rapporto con l'università è molto diverso, paritario, non subalterno, tante cose da fare. Per carità, l'inizio voglio dire. Devarla con me. Assolutamente, la facciamo parlare assolutamente con lei. Oppure ce l'avevo direttamente io. Ci sono possibilità? È un annuncio? Adesso è una battuta, adesso non spariamo. È un annuncio, qui abbiamo detto te sei, lei che dice? Battuta, battuta. Te sei va bene? Battuta. Una battuta, vabbè, ancora, è assolutamente troppo presto. Invece in Parlamento lei si impegna a fare che cosa subito? Posso suggerire una cosa? Il lavoro, la questione del lavoro. Sì, però il lavoro, diciamo, la politica non crea posti di lavoro. Ok. E neanche li salva. Può aiutare. La politica crea le condizioni affinché l'imprenditore crei posti di lavoro. I posti di lavoro non si creano per decreto o per legge. Si creano le condizioni affinché gli imprenditori abbiano, diciamo, agibilità economica per fare sviluppo. In Umbria questo non esiste. In Umbria noi abbiamo una società regionale dello sviluppo che si chiama Svilupp Umbria, che è una contraddizione in termini. Se è Svilupp Umbria deve sviluppare l'Umbria. Se non sviluppa l'Umbria, il presidente, il direttore di Svilupp Umbria, come quello dell'aeroporto, devono andare a casa. Ma non ci siete mai riusciti, però, da fini. Non ci siete mai riusciti. Il centrodestra, il centrodestra, non ne abbiamo mai governato, quindi per nostra colpa. Noi non abbiamo avuto un Renzi in Umbria che ci ha dato una mano. Ma non siete riusciti a costringere la maggioranza a fare scelte importanti. L'abbiamo detto mille volte, cento volte, abbiamo chiamato in audizione tutti. Veramente, la democrazia di fronte alla logica dei numeri si ferma. Cioè, alla fine ti dicono, sì, c'hai ragione, però fammo come c'è fare. E quindi, che devi fare? Chiudi e via. Da fini un minuto tutto per lei, perché questo se l'hai guadagnato, se l'hai guadagnato stasera, un minuto per dire invece, perché l'hai interrotta, che cosa pensa di fare subito in Parlamento, se questa legislatura riesce a decollare. Ci sono due modi per fare il parlamentare. Quando ci arrivi troppo giovane, c'hai l'assillo di restarci più tempo possibile. E quindi campagna elettorale permanente, marchette dalla mattina alla sera, parli con tutti, ascolti tutti, cerchi di togliere contravenzioni, di trovare posti di lavoro che non ci riesci più, di procurare, di saltare file degli esami clinici e così via. Purtroppo la gente alla politica chiede questo. Non ci possiamo meravigliare che la politica poi faccia questo, perché la gente alla politica chiede questo. Oppure c'è un altro modo, quando ci arrivi, diciamo, maturo, quando ci arrivi come me dopo 40 anni di politica, che ti interessa solo lasciare il segno, andare lì per qualcosa di concreto, per fare qualcosa per la tua gente, di vero. E questo è quello che io voglio fare, cominciando, come ho fatto già, dall'infrastrutturazione. Io andrò in Commissione Sanità, reputo che l'Umbria debba ottimizzare queste 80%, 85% di risorse regionali che buttiamo dentro il buco nero Sanità. Io andrò in Commissione Sanità, dopo essere stato per 15 anni in Consiglio regionale, tre mandati in Commissione Sanità. Cioè voglio occuparmi di quello che so e di quello che so fare. Questo è quello che cercherò di fare. Poi se ci torno, ci torno. Se non ci torno, sto bene uguale, perché avrò fatto qualcosa di cui andrò soddisfatto io. Perfetto. Ci siamo giocati tutto il tempo, però il senatore Zaffini tornerà sicuramente con noi e magari, dicono di lei, saranno bellissimi, dicono che è il migliore dei senatori e dei parlamentari dell'Umbria. Semplicemente potevi dire che dopo tre mandati non mi ero ricandidato, avevo fatto eleggere un giovane cresciuto nel filo del mio partito. E questo è un altro punto a favore del senatore Zaffini. Un altro punto, pensi lei quanti ne può mettere in fila facendo bene il parlamentare. Grazie tanto a tutti voi che ci avete seguito fin qui. La nostra social tv, come diciamo noi, prosegue con altri appuntamenti di Time Out. Entriamo nelle vostre case se volete e se no stiamo fuori con le nostre conversazioni. Grazie tanto ancora. Grazie. 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 Grazie.